Ode alle monovolume che per fortuna ancora resistono all'attacco serrato dei SUV. La classe B è stata appena sottoposta a un bel restyling di metà carriera e quindi l'abbiamo portata qui in pista per non farle sconti. L'abbiamo sottoposta ai nostri test con strumenti, l'ingegnere, perché l'obiettivo rimane sempre quello raccontarvi, oltre ai pro, quelli ve li sanno dire tutti, anche i suoi contro. Trovate tutto scritto in maniera chiara, senza giri di parole, alla fine del video, insieme a tutti i voti del pagellone. E allora, monovoluziamo! Ammetto che sono particolarmente curioso di vedere fino a che punto è arrivata la classe B, perché il mio caro babbo ha avuto ormai tanti anni fa la prima serie nel lontano 2006. Questa è la terza generazione restyling, infatti è cambiata tanto 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 dall'auto che era allora, anche perché adesso è più tecnologica, più spavillante, più Mercedes e ha anche motorizzazioni, ibride plug-in, proprio come quella che sto guidando io adesso. Sono anche contento di guidare la classe B perché è una mosca bianca, una delle poche monovolume rimaste sul mercato e secondo me è sempre un peccato, perché una volta andavano davvero tanto di moda, prima dell'avvento massiccio dei SUV, oggi sono andate quasi completamente perse. Se le concorrenti della B-Class si contano praticamente sulle dita di una mano, ma rimangono secondo me auto intelligentissime, perché con quella configurazione lì, da monovolume, riescono a ottimizzare al massimo gli spazi interni in relazione agli ingombri. Come poche altre auto riescono a fare, mi mancano e comunque sì, lo dichiaro, mi piacciono. Lei condivide l'architettura, la piattaforma con tutte le piccole, le compatte della stella, quelle che nascono principalmente a trazione anteriore, che comunque hanno il motore trasversale, quindi classe A, GLA, CLA e viene costruita per davvero in Germania, nello storico stabilimento di Rastatt. Giusto un accenno ai prezzi, poi ci torniamo come sempre in maniera approfondita, critica e analitica nell'apposito capitolo in fondo al video. In ogni caso il restyling della B parte da poco più di 35.000 euro, ma le versioni più ricche superano i 45, come la nostra peraltro. Poco più di 4,40 m per questa classe B che si mantiene un'auto bella, secondo me da vedere, elegante anche a distanza di qualche anno dal lancio. Il merito è del suo design, con grandi superfici levigate, non troppe linee di forza, nervature, che la rendono sicuramente più gradevole da guardare rispetto ad alcune concorrenti più tese, inutilmente cattive. Vero BMW? Il restyling si è concentrato proprio al frontale, dove sono stati ridisegnati i paraurti, la mascherina e i gruppi ottici. Bene, le ha fatto bene, è più fresca, più aggiornata, più futuristica davanti. La classe B con i gruppi ottici che sono full LED, davvero bellissimi, con la firma Mercedes all'interno, volendo ci sono anche amatrice. Bella la mascherina con tante piccole stelline, sono tra i pochi Mercedes che sono riusciti a trasformare un elemento plastico molto invadente in qualcosa di originale e gradevole da vedere, secondo me. Attenzione soltanto al portatarga che è a misura delle targhe europee, tedesche, non di quella italiana che è più corta, secondo me stona un po' su un'auto di questo livello. Prese d'aria, attenzione, quelle verticali, laterali sono vere, ma queste qua, molto grandi, di plastica nera, sono finte, piene. Forse è una caduta di stile. Mi piace questo facelift perché pur non essendo invasivo è riuscito a dare una boccata di ossigeno a livello estetico a questa Mercedes. Se i gruppi ottici sono nuovi, nelle geometrie interne delle luci, che sono davvero ben fatte, gustose, e poi è tutto a LED, non c'è traccia di lampadine alogene e meno male. Anche qui troviamo grande eleganza, forme morbide, classiche, però perché mi hanno messo questi terminali di scarico finti? È Gordon Wagener, capo del design Mercedes, è tutto così apprezzabile e poi mi mettono lo scarico cromato, per di più pieno, in plastica, ma non si poteva fare un bel paraurti tranquillo, pulito, liscio. Terminale di scarico vero è sotto. L'analisi qualitativa del nostro ingegnere, cosa ha portato a galla? Vabbè, che in generale la costruzione all'esterno è davvero ben fatta, rigorosa, le luci, le linee di fuga tra i pannelli di carrozzeria sono costanti e non troppo distanti. Davvero ben fatto, un'auto alla tedesca, però attenzione, non mancano comunque delle sviste che ci hanno fatto un po' alzare il sopracciglio, come per esempio qui nella zona del faro che non è perfettamente raccordato, peraltro da entrambi i lati. Diciamo che in generale le Mercedes di alta gamma, con architettura diciamo diversa, quindi longitudinale, sono più curate. E poi questa presa d'aria finta qua è davvero imperdonabile. E la prova portiera cosa ci racconta a livello di padiglione auricolare? Beh, che in Mercedes amano curare questo dettaglio da sempre. Qui siamo su un modello comunque di accesso alla gamma, eppure il suono è bello felpato, ovattato. Vediamo le guarnizioni, cosa ci raccontano? Beh, quella principale è su più livelli, è davvero ben fatta, spessa, applicata in maniera incomiabile. Poi qui sull'intero giro dello sportello battente ne troviamo un'altra, anche questa davvero cicciotta. Spiegato il motivo di un risultato così appagante, ce n'è, guardate peraltro, un'altra qui, come sui modelli di alta gamma, che aiuta a filtrare ancora di più i frusci aerodinamici. Qualità all'interno, cosa abbiamo trovato? Allora, sicuramente materiali di grande fattura, tutta la parte alta della plancia è materiale soft touch. E poi guardate queste finiture qui, satinate, spazzolate, sono meravigliose, davvero appaganti. Le stesse le troviamo sul pannello porta, che è davvero ben realizzato, parte alta, tutta soft e poi microfibra sul pannellino, davvero ben fatto. Attenzione soltanto alla parte inferiore, che effettivamente ha della plastica digida, ma con una goffratura, dai, piuttosto curata. E poi il fondo della tasca ha un bel tappetino in gomma. Ma qui sì, che sentiamo proprio, no, il profumo di Mercedes. Attenzione però, come sempre, al piano black. Un materiale che proprio non ci va giù nei pro e contro. Si manifesta subito lo sporco, la polvere, come in questo caso. Si vedono tantissimo le ditate, poi è molto cagionevole. Basta un niente per rigarlo. Qui ce n'è un po' troppo nella zona delle bocchette di ventilazione e anche del tunnel. Per fortuna qui un pochino limitato da questa finitura color alluminio. Le bocchette di ventilazione, un bel capolavoro a livello di design. Attenzione che quando le andiamo a movimentare manifestano qualche scricchiolio di troppo, l'avevo già detto anche su altri modelli compatti della Stella. E poi abbiamo i comandi. Lo sterzo è meraviglioso da impugnare, rivestito con una pelle traforata, davvero di grande fattura, giusto dimensionamento, bellissimo il design del nuovo volante, delle nuove Mercedes, mi piace un sacco. Paddle piccolini, solidali, alle due razze. Attenzione però ai comandi qui a sfioramento. Organizzati molto bene. A destra si comanda il sistema multimediale, a sinistra la strumentazione. Però sono spesso comandi a sfioramento. C'è il click ma per passare da un menu all'altro bisogna sfiorare. Si fa un po' fatica, soprattutto mentre si guida. Necessitano di un tempo di apprendimento piuttosto lungo all'inizio e spesso si rischia di sbagliare, di premere qualcosa che in realtà non volevamo selezionare, secondo me, da rivedere. Abbiamo poi quelli qui a bilanciere del sistema di climatizzazione. Bene, perché ci sono, sono fisici e in un attimo si vanno a cambiare le impostazioni del clima. Non è tutto touch, per fortuna. Molto bene i bilancieri qui laterali della temperatura trasmettono una bella idea di qualità. Meno però questi a pianoforte qui in mezzo, che sono un po' cedevoli. Ci parlano un po' troppo della loro anima plastica, secondo me, e non sono bellissimi da azionare. L'ho detto anche con la classe A. E poi abbiamo i sedili, davvero bellissimi quelli del nostro esemplare. Misto microfibra e pelle con impuntura a vista rosse e anche piuttosto comodi. Non sono inutilmente esasperati, siamo su un'auto pacifica, quindi non troppo sagomati. Soprattutto la seduta che è quasi piatta e questo sicuramente aiuta anche nei viaggi di lunga percorrenza. Bella la pedaliera in alluminio gommata, posizione di guida, ho regolazioni elettriche sul mio esemplare. Non devo assumere per forza una posizione troppo turistica. Siamo su una monovolume, ma volendo riesco un pochino almeno a distendere le gambe. Oppure a guidare in posizione rialzata se mi piace di più. La posizione di guida è più rialzata rispetto alla classe A da cui deriva, di ben 10 centimetri. Volendo quindi si può stare belli in alto, anche oltre i 60 centimetri. Chi ha detto quindi che per avere la guida alta occorra per forza scomodare un SUV? Anche le monovolume possono accontentare alla grande gli amanti del genere. E la classe B lo dimostra. Per sapere se è un'autospaziosa l'abbiamo rimisurata da capo, non andiamo a sentimento. Ecco cosa abbiamo scoperto in relazione ad un po' di concorrenti che ci aiutano a farci un'idea. A parità di lunghezza la classe B offre un pochino più di agio in altezza e per le gambe di chi siede dietro. Mentre lo spazio in larghezza è pressoché lo stesso. Da una monovolume era lecito aspettarsi qualcosina di più incisivo. Lo dimostra il fatto che i numeri rilevati sono molto simili a quelli della DS4, che non è propriamente una monovolume. Il divanetto posteriore scorrevole è un optional e, francamente, ce lo saremmo aspettati di serie su un'auto che dovrebbe fare della versatilità la sua ragion d'essere. Ma che numeri alla mano assomiglia troppo a una classica berlina. Come dimostra il terzo posto centrale sacrificato. Insomma, i tempi delle monovolume con i tre sedili separati dietro sembrano un ricordo del passato. Almeno per questa Merck. Attenzione però al quinto passeggero. C'è un tunnel centrale anche piuttosto evidente che ne limita l'abitabilità. Meglio quindi viaggiare in quattro. Su questa monovolume abbiamo bocchette di ventilazione regolabili dedicate a chi sta dietro. Una presa USB di tipo C. Il tetto panoramico sul nostro esemplare che però è sdoppiato. Quindi c'è un elemento portante al centro. Peccato. Lo sportello, attenzione, è un'auto della famiglia. Pratica però non si apre proprio a 90 gradi. Questo limita un pochino l'accessibilità che invece sarebbe stata molto buona. Visto che l'apertura dello sportello è davvero abbondante. Attenzione, ho attacchi Isofix super esposti del tipo a sportellino. Quelli più comodi per installare i seggiolini. Le finiture. Parte alta del pannello porta davvero ben fatta al pari di quello anteriore. Sotto però plastica rigida di fattura meno curata rispetto a quella anteriore. E nessun fondo gommato per il portaoggetti. Mercedes, auto che prestano grande cura storicamente all'aerodinamica e anche all'insonorizzazione. Vediamo questa classe B come si è comportata nel nostro test infallibile. L'insonorizzazione è in generale buona ma non strepitosa. In particolare non è difficile avvertire il rumore, peraltro non particolarmente gradevole, del turbo benzina dell'alleanza quando entra in scena. Si alternano quindi momenti di grande quiete, quando si viaggia in elettrico, a periodi in cui la presenza del quattro cilindri è ben avvertibile. Per darvi un parametro, basterà dire che la classe A con l'ottimo 2000 a diesel Mercedes è risultata nettamente più silenziosa. E che i valori della Jogger, non una campionessa in termini di silenziosità, non sono poi così lontani. Colpisce la DS4, anche lei provata con un diesel, ma capace di regalare un abitacolo decisamente più silenzioso rispetto a quello della B. La capacità di smorzamento è in generale buona, un'auto confortevole, dietro abbiamo sospensioni indipendenti multibraccio, però attenzione agli allestimenti. Qui abbiamo dei cerchiazzi del restyling, 19 pollici, 225-40 con spalla sportiva, ma su una monovolume, secondo me, se ne può anche fare a meno e ne gioverà il comfort, soprattutto dei passeggeri posteriori. Spalla più umana, cerchio più piccolo e si va via tranquilli. Chi prende un'auto come questa lo fa perché magari ha una famiglia numerosa e vuole caricare tanta roba quando si parte, per esempio, per le vacanze. Per capire qual è la reale capacità, noi ce ne infischiamo del dato dichiarato omologato, andiamo a rimisurare tutto da capo, ecco cos'è venuto fuori. I litri reali rilevati dall'ingegnere sono poco più di 300, molti meno dei 450 dichiarati e solo 45 in più rispetto a quelli della classe A plug-in che monta lo stesso powertrain ibrido ricaricabile. Dalla sorella monovolume c'era da aspettarsi qualcosina di più in termini di versatilità. Certo, chi vuole avere un baule più capiente potrebbe comunque rinunciare alla variante 250e optando per le più classiche versioni benzina e diesel mild che riescono a regalare qualche litro in più. La soglia è piuttosto bassa, più bassa rispetto a un SUV, quindi è più facile caricare e scaricare soprattutto le cose pesanti. Attenzione però a questa soglia che è in plastica rigida col tempo rischierà di rovinarsi, di graffiarsi e poi l'aggancio della serratura non è celato da alcun tipo di scontrino. Un dettaglio che hanno a auto meno blasonate, per fortuna sì, la serratura lei è nascosta. Le finiture dentro comunque sono in generale molto buone. Moquette peraltro morbida sia sui fianchetti sia sul fondo. Un abitacolo piuttosto squadrato che quindi facilita il carico. Attenzione però alla variante plug-in, non sono riusciti a trovare lo spazio per sistemare i cavi di ricarica, quello per quella domestica e quello per quella alla colonnina e quindi vi ritrovate sempre con queste due borse nel baule che di fatto danno un po' fastidio e vanno a limitare lo spazio. Attenzione poi, non c'è alcun tipo di doppio fondo che è interamente occupato dal kit di riparazione, non c'è quindi il ruottino di scorta come spesso capita, direi quasi sempre, sulle auto ibride plug-in e quindi se squarciate la micro spalla che vi siete divertiti a mettere nel configuratore, vi conviene chiamare il caro attrezzi. Si possono comunque abbassare i sedili anche solo quello centrale per mettere lunghi oggetti passanti. Attenzione che quando vado ad abbassare però mi rimane un gradino non proprio trascurabile, questo può creare qualche complicazione al carico. Luce di cortesia, sì, soltanto una sola a led. La prova con le irrinunciabili valigie cinesi ci aiuta a capire in maniera immediata quanta roba si riesca di fatto a caricare in sicurezza in questo vano. L'ingegnere, come vedete nelle immagini, carica tre valigie di cui solo una di grandi dimensioni, oltre a due borsoni e uno zaino. Insomma, viaggiando in quattro, più o meno tutti potranno portarsi dietro un bagaglio a patto di non esagerare troppo. Ma la sensazione è che anche in questo caso da una monovolume si poteva pretendere un pochino più di spazio. Proprio come sulla classe A restyling, qui abbiamo la possibilità di avere due display appaiati in puro stile Mercedes con una risoluzione altissima, una luminosità molto alta, animazioni che non laggano tra i migliori, secondo me, del mercato o comunque della categoria. Sulle versioni base, attenzione, che abbiamo la strumentazione da 7 e il display centrale da 10 e 25, su quelle top di gamma, come nel mio caso, entrambi i display sono da 10.25 pollici. Una scelta consigliatissima. Abbiamo il sistema multimediale MBUX, che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare negli ultimi anni, che qui è stato ulteriormente evoluto e affinato. Per esempio, dal punto di vista dei comandi vocali, che ora sono stati affinati ancora di più e rispondono a comandi, a frasi ancora più naturali, che fanno parte del nostro linguaggio comune. Funziona davvero bene provare per credere. Ci sono Apple CarPlay, Android Auto, funzionano anche in modalità wireless, ma il sistema, lo dico sempre, sulle Mercedes funziona talmente bene che non è obbligatorio rimanere confinati dentro il sistema di iOS, o di Android. Si lascia apprezzare anche quello residente della Mercedes. Io personalmente l'ho utilizzato tantissimo. Stesso discorso per la strumentazione. Siamo al top. Completamente personalizzabile. Tantissime possibilità di personalizzazione. Si può avere la mappa e una tonnellata di informazioni da parte del computer di bordo. È davvero un piacere mettersi a spippettare e a trovare qual è la configurazione preferita. Con il facelift di metà carriera sono intervenuti anche sui sistemi di assistenza alla guida, che rimangono completissimi, ma sono ancora più precisi negli interventi. Quindi abbiamo una guida assistita di livello 2, l'auto segue tranquillamente la traiettoria con correzioni di sterzo davvero naturali. Non ci sono tutti quei cicalini che possono dar fastidio quando si parla di ADAS, come su altre auto, cioè i sistemi non intervengono a sproposito e non sono pedanti. Non finiscono per dare così tanto fastidio che alla fine finiamo per disattivarli, vanificando la loro opera. Noi oggi la classe B la proviamo con la motorizzazione un po' top di gamma. Il plug-in benzina che abbina un 1.3 sovralimentato attraverso turbocompressore, ha un bel motore elettrico di trazione, potenza complessiva del sistema alta, 218 cavalli e 450 newton per metro. Vediamo se questa monovolume riesce anche a tirare fuori i denti. Allora, metto InSport, così abbiamo il sistema ibrido plug-in che ci dà tutto quello che può e allora facciamocelo dare questo tutto. Via, giù tutto. Un minimo di esitazione e poi però mi tira le marce fino a 6.000 giri. Vediamo il verdetto. Per uno scatto da 0 a 100 la classe B PEV impiega 8 secondinetti, un tempo pazzesco per quella che dovrebbe essere una pacifica monovolume, anche se, a onor del vero, il risultato è superiore di 4 decimi rispetto al più ottimistico valore dichiarato. La classe A, a parità di motorizzazione, è riuscita a essere più veloce di circa un secondo, un risultato dovuto in parte anche alla differenza di peso. La B, sulla bilancia, fa segnare 50 kg in più della A, come dimostra il nostro confronta modello. E, in velocità, deve fare i conti con un'aerodinamica sicuramente meno favorevole, per via di una superficie frontale differente. Numeri da capogiro, come sempre capita con le plug-in, anche quando si parla di ripresa. Vediamo se questa B conferma la tendenza. La prova di ripresa è il fiore all'occhiello delle auto plug-in, che, in questo particolare tipo di test, possono contare sull'apporto di un potente motore elettrico di trazione. La classe B non ha deluso le aspettative. Le sono bastati meno di 5 secondi per passare da 80 a 120 orari, un risultato identico, in questo caso, a quello della sorella classe A, a parità di powertrain. La capacità di ripresa è quindi eccezionale. A parità di test, una DS4 a gasolio automatica ha bisogno quasi del doppio del tempo, giusto per darvi un termine di paragone. Le ibede a volte possono pasticciare un po' con il feeling in frenata, nel passaggio dalla frenata rigenerativa a quella meccanica. Vediamo questa B-Class come si comporta. Via, giù tutto al contrario. La B-Class ha avuto bisogno di quasi 43 metri per un completo arresto da 100 orari, un po' troppo considerando che la soglia ideale è attorno ai 40 metri, cifra a cui tutte le concorrenti si sono avvicinate senza problemi. In più, l'ingegnere ha registrato una certa tendenza all'affaticamento dell'impianto, con l'ultimo tentativo che ha fatto registrare un valore superiore di 3,5 metri rispetto al primo. Abbiamo una semplice trazione anteriore, un'architettura sicuramente meno nobile dal punto di vista meccanico rispetto all'alto di gamma della stella, eppure la dinamica di guida ci ha lasciato a bocca aperta, lo abbiamo detto anche sulla classe A, però queste auto tutt'avanti alla fine si lasciano guidare, che è un piacere. Certo, se andiamo a forzare un po' il ritmo emergono i limiti di questo tipo di impostazione meccanica, quindi a un certo punto un pochino di sottosterzo arriva, però prima di incontrarlo ragazzi riusciamo a tirarle le orecchie, e come se riusciamo a tirargliele? Perché è una macchina di fatto molto stabile, anche nei cambi di direzione più cattivi come questo, guardate. Di fatto riusciamo a affrontare e aggredire le curve anche con grande ferocia, e lei tutto sommato non si scompone, rimane un'auto incredibilmente sicura, che invoglia anche ad alzare un pochino la velocità quando iniziano le curve. Si ha l'idea di avere sempre tutto grandemente sotto controllo, anche per merito di questo sterzo, che ha il giusto carico, quindi non eccessivo, sapete che non ci piacciono gli sterzi inutilmente pesanti, diciamo su una buona volume, dopo tutto, eppure è collegato molto bene alle ruote anteriori, e questo ci regala tra le mani un ottimo feeling, cioè ci lascia capire benissimo cosa stanno andando a fare le ruote senza ritardo, tra quando impartisco il comando e quando poi effettivamente le ruote iniziano a dare direzionalità. Tutta questa immediatezza si traduce in una grande piacevolezza di guida che non sconfina mai, chiaramente nella sportività o in un'auto particolarmente divertente da guidare. E poi abbiamo il cambio, che è un doppia frizione per applicazioni trasversali, piuttosto rapido, però un sistema che privilegia sicuramente il comfort, la dolcezza della cambiata rispetto all'incisività e anche alla rapidità. Abbiamo visto dai numeri, la versione plug-in ha più di una cosa da dire dal punto di vista prestazionale. Attenzione solo al 1.3 benzina, che avevo già guidato tempo fa e confermo le sensazioni. Un motore vispo, piuttosto frizzante dal punto di vista delle prestazioni, non mi convince mai dal punto di vista della pastosità e della ruvidità, che secondo me manifesta in maniera un po' troppo evidente, soprattutto quando andiamo a chiedergli tanto, sopra i 4.000 giri. Massiamo la nostra prova parcheggio e quindi come sempre proviamo la manovra, selettore delle marce tipico delle Mercedes all'americana. Allora abbiamo prima di tutto una bellissima sorpresa, un raggio di sterzo davvero eccezionale, migliore rispetto a tante concorrenti, un aspetto che i Mercedes curano da sempre in maniera molto particolare e poi un sistema di telecamere davvero ben fatto. L'immagine non è grandissima, però la risoluzione è perfetta, grande luminosità, ci fa capire perfettamente quello che accade dietro e intorno, perché abbiamo anche la visione a 360 gradi, in questo caso sorprende ancora di più la definizione dell'immagine che ci renderizza il sistema bene, perché dietro comunque l'unotto non piccolissimo, si vede comunque meglio che su un SUV, però comunque le telecamere ci aiutano, abbiamo chiaramente anche i sensori, attenzione però al montante anteriore, lui è sottile, bello inclinato là davanti, però mi fa tanto blocco con lo specchio e mi limita la visuale molto, anche nelle svolte più strette, attenzione. Un'ibrida plug-in deve riuscire a garantire una percorrenza quotidiana in elettrico puro soddisfacente, ma al tempo stesso consumi che non diventino esorbitanti quando poi si finisce il tesoretto di elettroni. Questa B come se la cava ora che è stata ottimizzata anche proprio dal punto di vista del powertrain, per scoprirlo abbiamo spedito il nostro ingegnere all'interno del ciclo di rilevazione in condizioni reali di Automoto.it, il cappio, ed ecco cos'è venuto fuori. La batteria ha una capacità nominale di 15,7 kilowattora, anche se quelli realmente utilizzabili sono circa 13. Con un pieno di corrente si riescono a fare tranquillamente più di 60 chilometri in condizioni reali, che non saranno i 77 dichiarati, ma che vi dovrebbero bastare abbondantemente per coprire gli spostamenti quotidiani. Se vi doveste spingere più in là, per un lungo viaggio per esempio, sappiate che quando la batteria si scarica e si inizia a viaggiare in ibrido, la classe B riesce a rimanere piuttosto efficiente. Molte plug-in in questi frangenti diventano energivore. La monovolume della stella non strappa record di consumo, ma riesce a stare comunque attorno ai 15 chilometri e mezzo con un litro di verde. Che non è male per un'auto di questa taglia a benzina automatica, che si deve portare a spasso anche tutto il peso extra di batteria e sistema ibrido. Certo, chi dovrà percorrere tutti i giorni tanta autostrada conviene che continui a preferire l'ottimo diesel Mercedes, con cui si riescono a ottenere risultati sicuramente più strabiglianti, come conferma il dato registrato dalla classe A a gasolio nel nostro ciclo di rilevazione. Molto buono il sistema di ricarica, perché il caricatore di bordo è potente e permette di caricare alla colonina pubblica a 11 kilowatt, praticamente come con un'auto 100% elettrica. In più, volendo, si può avere anche la ricarica fast in continua da 22 kilowatt, che molte concorrenti plug-in continuano a non offrire nemmeno come optional. In ogni caso, per il pieno quotidiano, basta anche la classica presa domestica in garage. Con l'asciugo sono sufficienti meno di sette ore per fare un pieno notturno. Ok, la plug-in costa tanto, tantissimo, però il modo di spendere un po' meno con la monovolume della Stella in salsa premium esiste, per fortuna. Vi spiego tutto. Una classe B plug-in non costa poco, anzi, si parte da 45.000 euro, ma per una versione bella carica di optional si superano senza fare troppi complimenti i 60k. Per fortuna si può spendere un po' meno, visto che i diesel e benzina base 180 partono da circa 37.000 euro. Costi di mantenimento super interessanti, però, visto che molte regioni prevedono importanti agevolazioni fiscali per le ibride ricaricabili. E a voi ha convinto questa classe B restyling? Prendereste lei oppure la sua rivale numero uno, la BMW Serie 2 Active Tourer? Se vi va, raccontatemi tutto nei commenti qui sotto. Ciao da Matteo Valenti, ci vediamo al prossimo video strumentale su automoto.it. Vi lascio ai pro, soprattutto ai contro e a tutti i voti del pagellone. Avrà preso insufficienze? Ciao! 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 Ciao!